Era di primo mattino e il sole appena sorto luccicava tremolando sulle scaglie del mare appena increspato. A un miglio della costa un peschereccio arrancava verso l'arco e fu data la voce allo stormo. E in men che non si dica tutto lo stormo a buon appetito si adunò. Si diedero a giostrare e ad accanirsi per beccare qualcosa da mangiare. Cominciava così una nuova dura giornata. Ma lontano di là, solo soletto, lontano dalla costa e dalla barca, un gabbiano si stava allenando per suo conto. Era il gabbiano Jonathan Livingstone. Si trovava una trentina di metri d'altezza. Distesse le zampette palmate, aderse il becco, si tese in uno sforzo doloroso per imprimere alle ali una torsione tale da consentirgli di volare lento. E infatti rallentò, tanto che il vento divenne un fruscio lieve intorno a lui, tanto che il mare ristava in moto sotto le sue ali. Strinse gli occhi, si concentrò intensamente, trattenne il fiato, compì ancora uno sforzo per accrescere solo d'un paio di centimetri quella penosa torsione e d'un tratto gli si arruffarono le penne. Entra in stallo e precipita giù. I gabbiani, lo sapete anche voi, non vacillano, non stallano mai. Stallare, scomporsi in volo, per loro è una vergogna, è un disonore. Ma il gabbiano Jonathan Livingstone, che faccia tosta, eccolo là che ci riprova ancora. Tende e torce le ali per aumentarne la superficie, vibra tutto nello sforzo e patapumf stalla di nuovo. No, non era un uccello come tanti. La maggior parte dei gabbiani non ci danno la pena di apprendere del volo altro che le nozioni elementari. Lì basta arrivare dalla costa dov'è il cibo e poi tornare a casa. Per la maggior parte dei gabbiani volare non conta, conta mangiare. A quel gabbiano lì invece non importava tanto procurarsi il cibo quanto volare. Più di ogni altra cosa al mondo a Jonathan Livingstone piaceva liberarsi nel cielo. Ma a sue spese scoprì che a pensarlo in quel modo non è facile poi trovare amici fra gli altri uccelli. E anche i suoi genitori erano afflitti a vederlo così, che passava giornate intere tutto solo, dietro i suoi esperimenti, quei suoi voli planati a bassa quota, provando e riprovando. Non sapeva spiegarsi perché, ad esempio, quando volava basso sull'acqua, a un'altezza inferiore alla metà della sua apertura alare, riusciva a sostenersi più a lungo nell'aria e con meno fatica. Concludeva la planata lui, mica con quel solito tuffo a zampi in giù nel mare, bensì con una lunga scivolata liscia, liscia, sfiorando la superficie con le gambe raccolte contro il corpo e in tutto aerodinamico. Quando poi si diede a eseguire planate con atterraggio a zampe retratte anche sulla spiaggia e a misurare quindi con i suoi passi la lunghezza di coni planata, i suoi genitori si mostrarono molto ma molto sconsolati. «Ma perché, John, perché?» gli domandò sua madre. «Perché non devi essere un gabbiano come gli altri, John? Ci vuole tanto poco. Ma perché non lascia ai pellicani il volo radente? Agli albatri? E perché non mangi niente? Ah, figlio mio, sei ridotto penne e ossa!» «Non mi importa se sono penne e ossa, mamma. A me importa soltanto imparare che cosa si può fare su per aria e cosa no. Ecco tutto. A me preme soltanto di sapere». «Sta un po' a sentire, Jonathan», gli disse suo padre con le buone. «Manca poco all'inverno e le barche saranno pochine. I pesci nuoteranno più profondi sotto il pelo dell'acqua. Se proprio vuoi studiare, studia la pappatoria e il modo di procurartela. Sta facendo del volo è bella e buona, ma mica puoi sfamarti con una planata, dico bene. Non scordarti figliuolo che si vola per mangiare». Jonathan la sentì obbediente. Nei giorni successivi cercò quindi di comportarsi come gli altri gabbiani. Ci si mise di buona volontà e gettando strida giostrava, torneava anche lui con lo stormo intorno ai moli, intorno ai pescherecci, tuffandosi a gara per acchieppare qualche pezzo di pane, un pesciolino, qualche avanzo. Ma a un certo punto non ne poté più. «Tutto questo non ha senso», disse, e lasciò cadere apposta una ciuga duramente conquistata. «Se la papassa è quel vecchio gabbiano affamato che lo seguiva, cui perdo tempo, quando potrei impiegarlo invece a esercitarmi? Ci sono tante cose da imparare». Non andò molto, infatti, che Jonathan piantò lo stormo e tornò solo, sull'alto mare, a esercitarsi, affamato e felice. Adesso studiava velocità. In capo a una settimana di allenamenti ne sapeva di più su questa materia, del più veloce gabbiano che c'era al mondo. Eccolo, a circa 300 metri d'altezza, che battendo le ali a più non posso si butta in picchiata, una picchiata vertiginosa verso le onde. A questo punto capisce perché i gabbiani questa manovra a tutta velocità non può riuscire. In appena sei secondi uno tocca le 70 migli all'ora, velocità alla quale l'ala di un uccello non è più stabile nella fase ascendente. Ci si era provato più volte, ma sempre con lo stesso risultato. Pur mettendoci il massimo impegno, perdeva sempre il controllo a una velocità così elevata. Saliva a quota 300. Avanti dritto, a tutta birra prima, poi scivolata d'ala e giù in picchiata. Niente. Ogni santa volta l'ala sinistra andava in stallo nella fase ascendente. Lui veniva spostato con violenza a mano manca. Stallava con la destra per cercare di riprendersi e trac! Cadeva in vite. Non riusciva a metterci sufficiente attenzione al momento in cui dava quel colpo d'ala ascendente. Dieci volte ci aveva provato e ogni volta, appena toccate le 70 migli orarie, si trasformava in una trottola di penne e, perduto il domino dell'aria, tonfava nell'acqua. Il trucco li benenò alla fine in mente quando era ormai fradicio. Consiste nel tenere le ali ferme. Sì, remeggiare finché non sei sulle 50 miglia, poi tenere salde le ali. Salia a quota 600 e riprovò. Si buttò in picchiata, becco dritto in giù, ali aperte tutte, appena toccate le 50 migli e spiegate ferme. Occorreva una forza tremenda ma il trucco riusciva. Nello spazio di dieci secondi era sfrecciato a 90 migli all'ora. Jonathan aveva stabilito il record mondiale di velocità dei cappiani.